Giovedì 12 settembre ci saranno 586 studenti in più sui banchi delle scuole bergamasche. Saranno infatti 171.722 gli alunni che entreranno in classe al suono della prima campanella. Aumentano quelli delle scuole statali, che saranno 1.246 in più rispetto allo scorso anno scolastico, mentre le paritarie perdono 660 studenti. I bambini che frequenteranno le 387 sezioni delle scuole dell'infanzia statali saranno 9.815, mentre le 243 scuole dell'infanzia paritarie ne accoglieranno 23.108. Per quanto riguarda gli istituti statali bergamaschi, quest'anno sui banchi della scuola primaria ci saranno 51.141 alunni in 2.560 classi, di cui 383 a tempo pieno. Gli istituti secondari di primo grado passeranno invece dai 3.877 studenti del 2012-2013 ai 31.158 di quest'anno, in 1.402 classi, di cui 317 a tempo prolungato. Gli istituti superiori registrano nel loro complesso un incremento di 960 studenti, da 42.295 a 43.255 ospitati in 1.798 classi. Analizzando la distribuzione degli alunni, i licei guadagnano 789 studenti, gli istituti tecnici 106, l'intero comparto professionale 166. Dei 10.461 studenti in prima superiore, 4.292 sono liceali, 3.800 ai tecnici, 2.369 nell'istruzione professionale. L'ufficio scolastico territoriale di Bergamo gestisce per le scuole statali 12.111 posti in totale per i docenti e 3.396 posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. I posti per i docenti comprendono i 1.670 del sostegno, per favorire inserimento e integrazione dei 3.824 alunni disabili. La scuola bergamasca è sempre più multietnica, si prevedono circa 25.000 studenti in totale con cittadinanza non italiana, mentre nel 2000 erano 3.570. Nelle scuole statali è figlio di immigrati il 16% circa. I marocchini sono i più numerosi, seguiti da albanesi, rumeni, indiani, senegalesi, boliviani e pakistani.